28 giocatori convocati, 27 però al lavoro dopo che il giovane Bollino ha subito un infortunio al polso e le idee ben chiare. Inizia sotto queste premesse la stagione dell'Aqui, una stagione che la squadra guidata da mister Arturo Merlo vuole giocare da protagonista. Certamente non mancano le incognite legate soprattutto alla pandemia che ha interrotto anzitempo il campionato, la passata stagione e un ritmo da ritrovare dopo i molti mesi di inattività. Penso che ha qui meriti come storia, come tante altre cose, l'eccellenza. Penso che sia la categoria adatta ma soprattutto è un grande premio che viene dato a una famiglia che sono anni che investe in questa società. Penso che arrivando e anche visto tutti i lavori che stanno facendo in questo impianto e compagnia bella e soprattutto su tutte le squadre regionali. Siamo noi il casale nel Basso Piemonte, quindi è stata premiata questa grande testardaggine di Patrizia. È un premio alla sua convinzione che prima o poi ci saremmo arrivati. Ci serviva, l'avremmo fatta volentieri sul campo, però è arrivata, la prendiamo e ce la teniamo stretta, assolutamente. Magari con un campionato già importante visti gli acquisti, visti gli arrivi. Sì, gli acquisti Andrea e Giulio sono ragazzi che in questi anni hanno giocato, vinto e fatto ottimi campionati. Non c'è nemmeno da presentarli. I giovani li abbiamo presi perché pensiamo che possano fare molto bene, così come ci deve essere una crescita da parte poi dei nostri, della storia giovanile. Ne abbiamo portati tanti, come facciamo tutti gli anni, perché comunque voglio andare a un premio a questi ragazzi, specialmente a quelli che magari pensiamo che se lo siano meritati un po' di più. Intanto poi finito il ritiro, al giro li portiamo tutti e quindi li valuteremo tutti quelli di juniores e allievi. Quindi questa è un'altra situazione importante. Poi cosa ti devo dire, sono giocatori importanti quelli che ho. Qualcuno come me, sono un po' di anni che si allontano da questa categoria. Abbiamo molta curiosità di capire dove possiamo arrivare, cosa possiamo fare. Cioè è facile dire in questo momento stiamo in alto, stiamo in basso, non lo so. Partiremo con la massima voglia ogni settimana di fare un lavoro importante, di cercare di mettere più nozioni importanti dentro e tante cose. Poi i dettagli, come al solito, li fanno i giocatori di grande qualità e di grande intelligenza. Ho sempre detto che per me vince chi ha i giocatori più bravi, poi alla fine l'allenatore conta a gestirli, conta a dargli idee, conta a tutto, ma poi la giocata ce l'hanno nelle vene i giocatori più bravi. Che campionato sarà? Tu che sei un profondo conoscitore dell'eccellenza. Ma così sono andato a curiosare un po'. È un campionato che onestamente è difficile trovare una squadra che non potrà far bene. Perché 4, 5, 6 squadre si danno tutte come favorite e quindi presumo, visto anche i nomi che hanno dentro, che siano importanti. tante altre squadre, conosco gli allenatori anche, sono tutta gente che prima di mollarti una partita muoiono sul campo e quindi ogni domenica sarà una battaglia, una battaglia, un gerone che secondo me sarà importante, bello. Siamo pieni di motivazioni e speriamo di averle ogni domenica, la settimana dopo, però vuol dire che abbiamo costruito qualcosa e comunque si costruisce anche a volte dalle sconfitte, a volte molto più che dalle vittorie.